Manuela Borrelli da Cava dei Tirreni ad Avellino al Caffè Oveggenza venerdì 21 aprile alle 18 c'è la tua mostra una prima personale si venerdì 21 al Caffè Oveggenza ci sarà la mia prima personale ne sono veramente contenta emozioni in primavera un bellissimo titolo perché vogliamo tutti che finalmente arrivi questa primavera magari con tante belle emozioni anche le tue le tue opere d'arte chi ci sarà con te altri due personaggi oltre a Maurizio? sì assolutamente ci sarà Patrizia Gerardi come cantante e Giovanna Arispoli una mia amica una carissima amica poetessa e sarà presentata dal professor Franco Bruno Vitolo un professore di Cava dei Tirreni amico d'arte